7 maggio, Labs Gallery, siamo qui insieme a Ivan Quaroni, curatore di una mostra che si chiama Muscat Tales, un evento organizzato da Labs Gallery, una delle più belle gallerie d'arte nel centro della città. Intanto buonasera. Buonasera. Allora, non sempre si ha la fortuna di essere iniziati a una mostra di arte contemporanea, in questo caso di due artisti surrealisti. Sì, possiamo sicuramente definirli così. Iniziati, dico, dal suo curatore. Sì, è una mostra che in realtà ha due precedenti in due occasioni diverse. C'è stata una collettiva a Firenze, anni fa, cinque anni fa, in cui già c'erano i lavori sia di Vannicuoghi che di Marcel Zama e poi un'altra collettiva a Milano, quattro anni fa anche lì, in cui oltre artisti americani e giapponesi c'erano di nuovo sia Vannicuoghi che Marcel Zama. Quindi l'idea nasce un po' dal sottile sintonia che si era già creata nel vedere i lavori di questi due artisti, peraltro molto diversi, anche perché uno è genovese, ha il suo background a fonda nell'arte degli anni Ottanta e in particolare filtrato attraverso gli studi sul barocco, sul seicento e anche sul rinascimento, mentre l'altro invece è canadese, di Winnipeg, è cresciuto in un contesto completamente differente, che è il contesto naturalistico del Canada e poi si è trasferito a New York. Però a ben vedere, mettendoli a confronto, ci sono delle analogie, c'è un modo forse di raccontare che ha più di un punto in comune, diciamo. Quali sono queste sinergie, questi punti di contatto? Innanzitutto un'attenzione iniziale per un linguaggio di tipo anche illustrativo, se vogliamo, ma dico illustrativo per dire sintetico, per dire attento molto alla comunicazione. Infatti si può dire che la capacità di raccontare delle storie, anche se non sono delle storie autoconclusive, è un po' l'elemento che li accomuna, la capacità di cogliere con una sola immagine un frammento di un percorso o di un discorso più lungo che poi spetta all'osservatore concludere. Direi che anche come ambientazioni c'è un rimando sempre al mondo della natura in entrambi e c'è anche sottilmente la capacità di usare il linguaggio fabulistico, riempendolo però con dei contenuti che sono dissonanti e diciamo non sono per bambini. Altre sintonie sono quelle che danno in realtà il nome alla mostra. Mask e Tales significa racconti mascherati perché entrambi hanno questo vezzo di usare o maschere, come quelle per intenderci molto sottili che utilizzava, che ne so, Long Ranger o Zorro, oppure delle vere e proprie maschere che coprono tutta la testa, questo è il caso di Zama, in cui c'è un'evidente ascendenza di certe culture tribali anche che appartengono al Nord America, quindi la cultura per esempio dei totem, degli Inuit che sono appunto una popolazione dislocata nell'Alaska insomma in origine e essendo il Canada molto vicino è ovvio che lui abbia subito queste ascendenze, mentre nel caso di Vannicuoghi i riferimenti sono molto di più al mondo del barocco da una parte attraverso anche le architetture scenografiche, richiamo al teatro e poi anche sicuramente al linguaggio narrativo tipico di una sensibilità che è stata definita neofolk e che è una sensibilità di ritorno all'intimismo. C'è un neofolk, spiegami meglio. Neofolk è il modo con cui è stato definito una tendenza più che un gruppo, una sensibilità comune ad alcuni artisti americani, statunitensi ed è nata successivamente al crollo delle torri gemelle, uno shock collettivo che ovviamente ha avuto delle ripercussioni anche nel mondo dell'arte, queste ripercussioni si sono poi, come dire, dispiegate sotto forma di un ritorno alla dimensione intima, alla dimensione quasi diaristica del racconto, all'attenzione alla quotidianità, quindi a soggetti minuti, in contrasto con la spettacolarità e con i linguaggi diciamo roboanti dell'entertainment. Dobbiamo pensare che niente è stato più negativamente spettacolare del crollo delle due torri, quindi è ovvio che questo ripiegamento nell'intimo sia stata una conseguenza che però anche l'Europa ha filtrato e Vanni Cuoghi ce l'ha già dalle origini, il racconto minimale, dalle sue origini genovesi, l'origine genovese anche se la formazione è milanese ma diciamo che la predisposizione alla scheggia del racconto, al frammento gli è nata probabilmente già negli anni dell'Accademia, dopo l'Accademia lui peraltro ha avuto un breve periodo in cui si è cimentato con il mondo della Disney, frequentando l'Accademia Disney che è una palestra durissima, poi ha capito che non era quello che gli interessava e quindi ha virato con più decisione verso l'arte. Un'ultima cosa visto che manca invece e assente Zama, Marcel Zama se vuoi tu dirci qualcosa di più intimo di lui, nel senso che non potendo parlare l'artista facciamo parlare il curatore in sua vece? Beh, Marcel Zama è riconosciuto oggi come uno degli artisti internazionali più importanti per quanto riguarda almeno l'ambito della pittura e del disegno, è stato pubblicato in numerosi importanti libri come ad esempio Vitamin D della Fidon Press ma soprattutto lavora con una delle più grosse gallerie americane che è la galleria Zwirner. Il suo percorso è molto interessante perché dal Canada inizia ad approcciarsi all'arte contemporanea e al disegno attraverso un lavoro collettivo, cioè fa parte prima di un gruppo che si chiama Royal Art Lodge, era un gruppo formato da compagni di scuola che è andato avanti per un po' di anni, era insieme a Neil Farber e Michel Dumontier. Oltre a questo gruppo collettivo c'è stata anche una sua seconda declinazione chiamata Royal Family dove invece intervenivano anche membri proprio della sua famiglia. Poi ha iniziato un percorso solista diciamo e la cosa interessante è che il suo universo visivo è molto riconoscibile prima di tutto perché usa quasi esclusivamente la carta agli inizi e poi invece inizia a interessarsi ai balletti d'avanguardia, ripensa alla lezione del Bauhaus. Quindi anche lui come Vanni Cuoghi è affascinato dalla danza? Sì, lui ha proprio un'ossessione che deriva dalla visione dei primi balletti di Schlemmer, dopodiché affascinato anche da Duchamp inizia a girare dei video dove la coreografia e la danza sono una parte fondamentale, ma in realtà già osservando gli acquarelli si può notare che questa idea del corpo in movimento e che segue una rigida serie di coreografie è già presente. In particolare l'idea della guerra come una sorta di racconto figurato, danzato, dove la guerra quindi perde la sua connotazione di violenza ma si trasforma in una sorta di narrazione collettiva che lui non giudica da un punto di vista morale ma che sembra affermare come un elemento essenziale e ineludibile della storia. La storia è fatta molto spesso da guerra e quindi la guerra è un motore della storia. In Vanni invece più che di guerra parlerei di lotta di combattimento, le sue amazzoni, le sue spadacine sono invece delle vere e proprie eroine solitarie. Sono figure che lui ha metabolizzato prima attraverso l'idea delle streghe e la lotta tra streghe e demoni e che poi sono diventate qualcosa di più contemporaneo in cui possiamo intravedere delle figure di riferimento per esempio nell'eroina di Kill Bill di Tarantino o in quella di Tomb Raider, il famoso videogame. Io ti ringrazio molto, parlerei e ti ascolterei devo dire per ore perché è una conversazione colta dove imparo tante cose e soprattutto mi consente, così spero anche a chi vedrà questa intervista di apprezzare ancora meglio questo evento e di entrarci nel vivo, nel cuore. Grazie, grazie. A te.